Ciao ragazzi, eccoci qua, vi avevo promesso il video sui rinnovi e il video sui rinnovi è arrivato, è qui, è disponibile. Ve ne avevo parlato nel video di oggi, la conferenza stampa di presentazione della partita di domani di Coppa Italia contro il Sassuolo, dove Allegri ha dato alcuni spunti di riflessioni interessanti, non tanto sulla formazione, quella la leggeremo comunque nelle prossime ore, vi lascio qui sopra nelle schede quel video lì, andatevelo a vedere se ve lo siete persi. Oggi invece parliamo di rinnovi di contratto, l'altra sera abbiamo parlato di quello di Di Bala, potrebbero esserci novità, sapete tutti la mia posizione su Di Bala, non sto a ripetervela perché l'abbiamo analizzata tante volte, chi si è perso il video lo trova qui sul canale, comunque sempre qui sopra, nelle schede parliamo di altri giocatori che sono in scadenza di contratto. Partendo da Juan Quadrado, perché Quadrado è un altro giocatore che non mi farà sfuggire per niente al mondo, io credo che questa Juve non possa fare a meno di Quadrado, Allegri ha dato una buona definizione in conferenza stampa, ha detto è l'ago della bilancia della Juventus da stagioni, da tante stagioni, perché può fare il terzo d'attacco, il quarto di centrocampo, il terzino, il quinto di centrocampo, può fare veramente di tutto. Io aggiungo che è un giocatore di qualità, è un giocatore unico, credo, nel mondo, nel suo genere, non tanto nel suo ruolo, perché tanti giocatori sono comunque polivalenti, ma Quadrado riesce a mettere qualità, velocità, tecnica, ci mette veramente tutto, 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 ed è vero che è un giocatore abbastanza anziano, è un over 30 abbondante, però la Juve di questo Quadrado ha ancora bisogno. E quindi se mi chiedete rinnovereste il Quadrado? La risposta è assolutamente sì, l'unico paletto che vi metto è inerente al numero di anni di contratto, perché è ovvio che un giocatore così vecchiotto, scusami qua se dico vecchiotto, però non può essere un giocatore su cui costruire il futuro, però un altro paio di stagioni secondo me almeno le può fare, poi terminate queste due stagioni, si valuterà, anche se immagino che possa essere poi arrivato eventualmente la fine del suo ciclo a Juventus, quindi per un paio di stagioni Quadrado lo rinnoverei, anche aumentando, volendo l'ingaggio, non stiamo parlando di dargli 10 milioni di euro l'anno, però un giocatore come Quadrado per un paio d'anni secondo me anche 4-5 milioni di euro l'anno li può prendere, quindi sì, c'è la mia totale disponibilità e apertura al rinnovo di contratto di Quadrado. Poi arriviamo a parlare di alcune situazioni un po' più delicate, mi ricordo un video di Romeo, di qualche mese fa, che diceva io non rinnoverai nessuno il contratto alla Juve, punto. Tra l'altro questo è un video che volevo fare tempo fa proprio in risposta a quel video lì, non l'ho mai fatto, lo faccio ora, dato che la questione rinnovi sembra abbastanza entrata nel vivo e vi dico che io non ragiono così per valori assoluti, nel senso che di Di Bala abbiamo già parlato, io credo che sostituire un giocatore come Di Bala alla Juventus faccia un po' fatica, dovrebbe andare sul mercato, prendere un giocatore pronto, costruire la squadra intorno a questo nuovo acquisto che possa essere anche integrato alla perfezione con Vlaovic, negli schemi, nel modo di intendere il calcio di Allegri, quindi è un po' più complicato, stiamo parlando di un giocatore che ha un valore importante nella Juventus, stessa cosa per Quadrado, l'abbiamo detto proprio adesso, un giocatore unico, fai fatica a sostituirlo, è vero, è vecchiotto, ma ha ancora una rendita elevata, cioè rende ancora molto bene. Diverso è il caso di Bernardeschi, De Sciglio, Perin e Douglas Costa, vabbè mettiamoci dentro anche Douglas Costa, Douglas Costa ce lo facciamo in fretta, non lo rinnoverei, andiamo a perdere questo contratto a parametro zero, non è un problema, non devo neanche stare qua a spiegare il perché purtroppo, Gremio retrocesso, adesso è andato in America, vabbè, non andiamo nel dettaglio ragazzi, Douglas Costa ormai è un ex calciatore per questi livelli, su non prendiamoci in giro, che ogni tanto ancora della gente mi dice ma dato che si è fatto male Chiesa non possiamo riprendere Douglas Costa, signori dai per cortesia, stendiamo un velo pietoso e andiamo avanti. Per quanto riguarda gli altri, io credo che sia un discorso diverso rispetto a quello che si va per divale per Quadrado, perché secondo me un giocatore come Bernardeschi, un giocatore come De Sciglio, un giocatore come Perin sono facilmente rimpiazzabili dalla Juve. Il punto è, come li rimpiazzi? Traduco, Perin potresti semplicemente dire, metto in rosa un portiere dell'Under, che secondo me è rampa di lancio, Scesni fa un po' da chioccia a questo portiere, un po' come era accaduto proprio tra Buffon e Scesni, si fa un anno da secondo con la garanzia che Scesni a un certo punto magari non rinnoverà, verrà ceduto, roba del genere, dai uno o due anni di vice Scesni, lo fai giocare come Perin in Coppa Italia, dato che giocherà Perin in Coppa Italia, magari qualche rotazione in campionato e inizia a crescersi, formarsi e a vivere la Juventus prima squadra. Quindi se c'è un portiere che la Juventus considera pronto per essere un titolare, più che un titolare, una riserva della prima squadra per essere un titolare del domani, facciamolo che non è un problema. Se no, diversamente, se devo andare sul mercato a comprare un portiere da 10-15 milioni di euro, allora io il contratto a Perin lo faccio firmare, glielo sottopongo almeno. Poi lì entra Perin, Perin avrà voglia di fare ancora una volta il vice di Scesni? Secondo me no. Quindi potrebbe essere Perin stesso a non voler rinnovare il contratto. Quindi dipende dal profilo che ha la Juventus in testa, io non andrei a investire, perché Perin l'abbiamo pagato 15 milioni di euro nella stagione in cui arriva Ronaldo, quindi non andrei a investire altri soldi sul mercato per un portiere quando potremmo dare l'opportunità uno dei nostri giocatori. Bisogna vedere se sono pronti, se sono di livello, se abbiamo investito bene nell'Under-23, nella primavera, e c'è un profilo che se no possiamo proporre un rinnovare il contratto a Perin, ovviamente bisogna abbassare le cifre, ovviamente. Diverso invece per Bernardeschi e De Sciglio. Io credo che Bernardeschi e De Sciglio siano le figure perfette per essere considerati i gregari della Juventus. Io credo che in tutte le squadre, a qualsiasi livello, ci sono delle gerarchie. Ci sono gli intoccabili, ci sono i senatori, che sono due categorie diverse, perché Chiellini è senatore ma non intoccabile in questa Juventus. Ci sono due cose diverse. Senatori intoccabili, toccabili spara di campo, i titolari, nel senso che bene o male quelli possano giocare come no, e le riserve i gregari. Di Bala io lo metto negli insostituibili, non lo metto ancora nei senatori, ed è una cosa che faccio ancora un po' fatica a mandare giù, ma faccio un po' fatica a vedere in Di Bala quel mordente che magari può avere un Bonucci o un Chiellini, ma qua si tratta di personalità della Gazzola. Per quanto mi riguarda, Di Bala negli intoccabili per qualità tecniche, e sapete bene che io lo rinnoverei oggi, forse ieri, perché siamo anche un po' in ritardo. Bernardeschi, perché tanti, diavolo ragazzi, mi tocca ancora sentire paragoni, parallelismi tra Di Bala e Bernardeschi. Tutto rispetto per Bernardeschi, Di Bala ha fatto più di 100 gol con la Juventus, poi sì, sono ruoli diversi, stiamo davvero paragonando due calciatori. Io mi ricordo nell'anno di Ronaldo mi tocca fare un video per dire chi è meglio tra Di Bala e Bernardeschi, e dico ragazzi se Berna starà anche overperformando in questo momento Ronaldo completa il tridente, gioca sull'esterno, va bene, però Di Bala è un'altra pasta, è un altro giocatore, cioè proprio stiamo parlando di livelli diversissimi. Bernardeschi oggi percepisce 4 milioni di euro all'anno dalla Juventus, sono troppi, sono troppi, perché sono soldi che va a investire su un titolare del nuovo corso? Traduco, Zaccaria ne prende 2-8, Locatelli ne prende 3, e capite bene che se loro ne prendono così, Bernardeschi ne prendono 4, c'è qualcosa che non va, ne prende 3-5 Rugani per dire, c'è qualcosa che non va, assolutamente. Stesso discorso, c'è un giocatore che può entrare, che ne so, a che, che ora è aggregato, lo consideriamo pronto per, sì, benissimo, Berna, grazie, niente, non se ne fa niente, il problema è che ora siamo anche un po' corti con gli esterni, quindi forse ne serve anche un altro in più, se no gli si dice, Berna, questo è il contratto, da 2 milioni, 2 milioni e mezzo, non lo so, butto lì, stiamo parlando quasi del 50% in meno rispetto a quello che percepisci oggi, lo firmi con la consapevolezza che sei una riserva della Juventus e che comunque ti sei dimostrato importante anche all'interno di questa stagione, se lui ti dice di sì, io ci penso, se lui ti dice no, guarda, io voglio garanzie sul profilo tecnico, voglio garanzie sul profilo economico perché voglio di più, grazie per questi anni passati insieme, bocca al lupo per trovare la prossima squadra, a maggior ragione su De Sciglio, che mi sembra esattamente il giocatore ideale su cui fare questo ragionamento, De Sciglio non dice mai niente, sta sempre zitto, ne gioca 10-20 all'anno, non gli interessa perché sa, è consapevole dei suoi limiti, prendi troppo, in questo momento, dato che sei anche speso infortunato, ti vogliamo dare un po' di meno rispetto a quello che prendi, firmi a 1 milione e mezzo, 2 milioni di euro l'anno? Sì o no, prende e lasciare, ma anche qua devi sempre ragionare su ma se non rinnovo De Sciglio, se non rinnovo Bernadeschi, chi ci metto? Perché semplicemente puoi dire, ci metto De Winter in prima squadra, però anche qua è un discorso di De Winter è pronto come De Sciglio? De Winter può fare ruoli di De Sciglio perché sono anche due ruoli differenti, poi può fare il terzino e quindi sì, però bisogna sempre ragionare su questa cosa qua, quanto mi costa eventualmente andare sul mercato a prendere un eredere De Sciglio? Io non parto mai per valori assoluti, dico no, tu no, tu no, tu no, tu no, poi qua interverrà anche l'allenatore, perché l'allenatore, abbiamo visto con questo mercato, ha il potere di andare dalla società e dirgli, ho bisogno di questo giocatore, per favore fai uno sforzo per questo, fai uno sforzo per quell'altro, questo è facilmente sacrificabile, l'abbiamo visto con Bentancur che effettivamente era il terzo titolare per minuti giocati a centrocampo, c'è la possibilità di prendere Zaccaria e guadagnare due soldi su Bentancur? Si fa, Kulusevski, dispiace aver perso Kulusevski, un bel prospetto, però c'è la possibilità di reinvestire poi su Lauvic, si fa. De Sciglio, Bernardeschi, sono profili così insostituibili per Allegri? Io credo di no, però sono anche uomini che Allegri ha spesso e volentieri chiamato in causa, anche in momenti in cui ci aspettavamo altri, quindi Allegri, guarda, noi possiamo anche rinnovarteli, però arriviamo qui, con questa cifra qui, tetto salariale ridimensionato, non siamo più quella Juventus di una volta che spendeva, spandeva, dicevamo, come Rugani? Sì, quasi 4 milioni di euro all'anno, no, non è più questo mondo, per fortuna anche, mi viene da dire, ne siete consapevoli anche voi giocatori, e poi io capisco Di Bala che mi viene a dire, io ne prendo 7 come Rabiot, come Ramsey, Bernardeschi non può venirmi a dire, eh vabbè però Vlauic ne prende 7, penso che siano anche cose differenti, non penso che De Sciglio mi posso venire a dire, però Zaccarini prende 3, sono due cose differenti, De Litt ne prende 8, no, si parla di livelli, si parla di posizioni, quindi dipende anche molto dai giocatori, che cosa vogliono fare, cosa si sentono, perché le parole di Bernardeschi di quest'estate col San Marino, eh sì, qui mi fa rischiare la giocata, ti fanno pensare che Bernardeschi possa ragionare sul fatto che in realtà lui è un potenziale titolare della Juventus, fino adesso è stato un giocatore importante per la Juve in questa stagione, però io sono anche dell'idea che il fatto che Bernardeschi possa essere addirittura considerato titolare, sentite cosa vi dico, possa essere addirittura considerato titolare in questa Juve, ci dà anche la dimensione del perché questa Juve è arrivata al quinto posto pre-mercato di riparazione, perché è ovvio che se dei giocatori come Bernardeschi diventano titolare significa che il livello medio della squadra sia abbassato e quindi anche le posizioni in classifica, se invece Bernardeschi rimane alla riserva, ecco qua, che gioca o non gioca, quando ce n'è bisogno o quando non ce n'è bisogno, prende anche meno, perché 4 milioni a Bernardeschi non glieli puoi dare in nessuna vita in questo momento e non ci vedrai niente di male sul rinnovo del contratto, quindi sono secondo me ragionamenti che vanno fatti focus su focus, giocatore su calciatore, con l'intervento dell'allenatore e con l'intervento della società che ti dice se non rinnovo De Sciglio ti metto De Vinter in prima squadra, ti va bene? Se Allegri ti dice di no, diamo 2 milioni a De Sciglio, la società secondo me deve fare in modo che, perché se no, Allegri dice di no, va bene, ci diamo De Sciglio, però andiamo sul mercato e prendiamo, la butto lì è un nome a caso, Darmian dell'Inter, Inter quanto costa Darmian? Voglio 12 milioni e allora conviene spendere 12 milioni per Darmian che ha voluto l'allenatore o rinnovare il contratto di Sciglio 2 milioni? Sono esempi banalissimi ma che vi danno l'idea di come deve ragionare la Juventus oggi, tutt'uno, ve lo ricordate qualcuno che ha preso per il culo, per il triangolo, però deve essere il triangolo, la piramide, dirigenza, allenatore e squadra, deve essere un tutt'uno, dobbiamo tornare ad essere un tutt'uno, perché se no semplicemente non si va da nessuna parte, le squadre vincono quando tutti hanno un'unità di intenti tale per cui funziona tutta la perfezione e noi dobbiamo ricominciare da lì, fatemi sapere un po' anche la vostra posizione qui sotto e poi parleremo di altri nuovi contrattuali che scadranno nel 2023, Alexandro, Rabiot, Rugani, forse addirittura Scesni, ma di questo parleremo in un futuro prossimo. Grazie